Buonasera e benvenuti. Questa è la prima semifinale di Italia Stuntale. Questa è chi e questa è qua? Se faccio così questa è... e questa è qui. Se faccio così questa è... Il contrario. Bravo, se prendo qui la metto qua, prendo qua, la metto in tasca e che c'ho qui o qua o qua o qui? Cioè qui o qua o qua o qua o qua? Dimmi tu. Qua. Che? Qui. Chi? Non lo so. Quante bravo. Andrea Paris, sei in finale. Grazie. Abbiamo deciso di assegnare solo un posto per la finale. Sono un posto. Io sono un posto. Gianluca, sei in finale. Bravo. Grazie. L'autismo. Ripartito. I pregiudizi. Lorenzo, dovrai lavorare ancora moltissimo perché sei in finale. Bravo. I'm feeling fun. I'm feeling fun. No, voi siamo in tanti. Ci ha trasportato di notte. Per paura degli automobilisti. Sia dei notifisti. Sia dei cattivi veri. Sia dei pessimisti. Sia dei cattivi pensieri. Coro, divertimento, vocale Vai in finale Beardis No, 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 no Samuel, sei in finale Avete assegnato cinque posti oggi Questo vuol dire che vi rimangono solamente altri cinque da assegnare settimana prossima in semifinale Avete assegnato cinque posti oggi